da l'avventura della coscienza, il centro psichico. E Sat Prem in questo libro, ispirato direttamente da Shri Arubindo, come sappiamo, ci dice la mente non è noi. Tutti i nostri pensieri vengono da una mente ben più vasta della nostra, universale. Il vitale non è noi, né sono noi i sentimenti e gli atti. Tutti i nostri impulsi provengono da un vitale più grande, universale. E neanche il corpo che ci racchiude è noi, perché è fatto di una materia ben più grande, obbedisce a leggi ben più grande delle nostre, universali. Allora qual è la cosa in noi che non sia l'ambiente, la famiglia, le tradizioni, il matrimonio, la professione? Che non sia il gioco della natura universale o delle circostanze? Qual è la cosa che fa di noi un io anche se tutto il resto dovesse crollare? E che soprattutto è davvero un noi stessi, quando tutto il resto crolla perché è l'ora della verità. Nel corso dell'esplorazione abbiamo osservato vari centri o livelli di coscienza. E abbiamo visto che dietro a questi centri c'è una coscienza a forza in azione che collega i diversi stati dell'essere. Uno dei primi risultati del silenzio mentale e della pacificazione del vitale è proprio quello di separare la coscienza a forza dalle attività mentali e vitali dove quasi sempre viene indiottita. E abbiamo sentito che questa corrente di forza o di coscienza è la realtà essenziale che sta dietro ai vari stati dell'essere. Ma questa coscienza forza deve pur essere la coscienza di qualcuno. Chi è cosciente in noi? Qual è il centro? Chi è il padrone di casa? Oppure siamo soltanto marionette nelle mani di qualche essere universale che sarebbe il nostro vero centro dato che tutte le attività mentali, vitali e psichiche sono appunto universali. La verità ha un duplice aspetto. Se ci ostiniamo a prendere la nostra personalità di facciata per noi stessi, siamo solo marionette, visto che quel povero io lì è davvero una povera marionetta. Ma noi abbiamo un centro individuale, quello che Sri Aurobindo chiama essere psichico. così come ne abbiamo uno cosmico, l'essere centrale. Pian piano, un passo per volta, dobbiamo trovarli tutti e due e diventare colui che è il signore di tutti i nostri stati. Per ora cercheremo soltanto di trovare il centro individuale, l'essere psichico, quello che altri chiamano anima. È nello stesso tempo la più semplice e la più difficile cosa al mondo. La più semplice perché anche un bambino può capirla, o meglio viverla spontaneamente. Il bambino è re, ride, perché vive nell'essere psichico. La più difficile perché molto presto questa spontaneità viene ricoperta da mucchi di sentimenti e di idee di ogni genere. Si comincia a parlare di anima e non ci si capisce più niente. Tutte le sofferenze dell'adolescenza sono soltanto la storia di un lento, progressivo imprigionamento dell'essere psichico. La chiamano crisi di crescenza, ma forse è solo una crisi di soffocamento. E così il ragazzo raggiunge la maturità quando non si accorge più di soffocare. Le difficoltà del ricercatore consistono, al contrario, in un lento liberarsi da tutte le confusioni mentali e vitali. Eppure ci accorgeremo che non si tratta semplicemente di un tornare indietro, prima di tutto perché nessuno torna mai indietro. E poi perché il bambino psichico che si incontra alla fine del viaggio, una fine che è sempre un inizio, non è più una realtà momentanea, ma una regalità cosciente. Lo psichico, infatti, è un essere e cresce. È un miracolo di un'eterna infanzia in un regno sempre più vasto. Un essere che sta dentro come un infante che deve nascere, dice il Rig Veda. La nascita psichica. Le prime manifestazioni dell'apertura psichica sono la gioia e l'amore. Una gioia che può essere prodigiosamente intensa e potente, ma senza esaltazione, tranquilla, profonda come l'oceano e senza oggetto. La gioia psichica non ha bisogno di niente per manifestarsi. È e basta. E continua ad esserci anche in fondo a una prigione perché è uno stato sentimento. Non un sentimento come il fiume che scorre gioioso attraverso il fango e la roccia per monti e pianure. Un amore che non è il contrario dell'odio e che non ha bisogno di niente per alimentarsi. Perché è. Brucia calmo in tutto ciò che incontra, tutto ciò che vede, tutto ciò che tocca. Perché non può fare a meno di amare. È il suo stato. Niente è basso oppure alto per lui, niente è puro o impuro. Niente può offuscare la sua fiamma né la sua gioia. Altri segni lo rivelano. È leggero, niente gli pesa, come se il mondo fosse la stanza dei suoi giochi. È invulnerabile, niente lo ferisce, come fosse ormai al di là di tutte le tragedie, in salvo per sempre da tutte le catastrofi. Mago egli vede ed è calmo, calmo come un respiro leggero in fondo all'essere. Vasto come egli fosse l'oceano da milioni di anni. Perché è eterno. È libero. Niente può tenerlo legato né la vita, né gli uomini, né le idee, né le dottrine, né i luoghi. Egli è al di là. Sempre al di là. Eppure perennemente, innumerevolmente nel cuore di ogni cosa. come fosse uno con tutte le cose. Perché egli è Dio in noi. Così appare all'occhio che vede. Quando guardiamo una persona cosciente dell'anima e che vive nell'anima, dice Mer, ci sembra di scendere, di scendere in profondità, giù, in fondo all'essere, lontano, lontano, lontanissimo, dentro. Mentre di solito, quando guardiamo qualcuno negli occhi, ci sono occhi in cui non si entra proprio, c'è come una porta che lo impedisce. Ma insomma, ci sono occhi in cui è possibile entrare. Una volta entrati, incontriamo quasi subito una cosa che vibra, anzi, che a volte brilla con tutto uno scintillio. Allora, sbagliando, diciamo, ah, ecco un'anima viva. Invece non è così. Tutto quello scintillio è il vitale. Per scovare l'anima dobbiamo ritirarci dalla superficie in profondità e poi puoi entrare dentro, scendere e scendere in un pozzo profondissimo, silenzioso e immobile. Lì, allora, incontriamo qualcosa di caldo, tranquillo, ricco di contenuto, assolutamente immobile e pieno, qualcosa di simile a una dolcezza, l'anima. Se insistiamo e se siamo coscienti di noi, ecco una specie di pienezza, come una cosa completa, che contiene profondità insondabile. E sentiamo che ad entrare lì dentro ci verrebbero svelati tanti segreti. E' come qualcosa di eterno, che si riflette su un'acqua calmissima, qualcosa dove non esistono più i limiti del tempo. Ci sembra di essere sempre esistiti e di esistere per l'eternità. Ma questi sono solo segni esteriori, il manifestarsi di una cosa che esiste di per sé e di cui vorremmo avere esperienza diretta. Come aprire quella porta? Lo psichico, infatti, se ne sta molto ben nascosto. Nascosto, prima di tutto, dalle idee, dai sentimenti che lo saccheggiano e lo scignottano spudoratamente. Noi siamo così infarciti di idee su ciò che è alto, su ciò che è basso, puro, impuro, divino, antidivino, così avvinti da tanti minimi lacci sentimentali, su ciò che è amabile, su ciò che non lo è, che il povero psichico non ha molte possibilità di manifestarsi. Il suo posto è già occupato da tutto questo ciarpame. Appena il nostro psichico mette fuori la punta del naso, viene immediatamente fagocitato dal vitale che se ne serve per i suoi show brillanti ed esaltanti, per le sue palpitanti emozioni divine, per i suoi amori possessivi, per le sue calcolate generosità, per i suoi chiassosi fremiti estetici. Oppure viene ingabbiato dalla mente, che subito lo trasforma in ideali esclusivi, in filantropie infallibili, in morali a tripla mandata. Oppure se ne appropriano le chiese, innumerevoli chiese, che lo inscatolano in dogmi e precetti. Che cosa c'entra lo psichico con tutta questa roba? Eppure lui è sempre lì, divino, paziente, a sforzarsi di venire fuori, malgrado tutto, attraverso mille incrostazioni, servendosi in realtà di tutto, anche di quel che gli viene offerto o imposto, adattandosi, come si dice, anche a far nozze con i fichi secchi. Ma è proprio qui che nasce l'intoppo. Appena, infatti, esce un attimo dal suo nascondiglio, lo psichico getta una tale luce di gloria su tutto che con la massima naturalezza noi siamo indotti a confondere la sua luminosa verità con le circostanze esteriori del suo rivelarsi. Chi un giorno, ad esempio, vedrà rivelarsi il suo psichico ascoltando Beethoven, dirà che l'unica cosa vera e divina sulla Terra è la musica e solo la musica. Chi percepirà l'anima nell'immensità dell'oceano si farà una religione delle vastità marine. Altri ancora lo scambieranno col proprio profeta, la propria chiesa, il proprio Vangelo. Ognuno costruisce il suo edificio partendo da un nocciolo di esperienza. Ma lo psichico è libero, stupendamente libero da tutto, non ha bisogno di niente per essere, perché è l'essenza stessa della libertà e si serve di tutte le nostre piccole o grandi musiche, delle nostre più sublimi o men sublimi scritture solo per forare un po' la nostra corazza ad uomini. e da lì affiorare. Presta la sua forza e il suo amore, la sua gioia e la sua luce, la sua irresistibile e vasta verità a tutte le nostre idee, i nostri sentimenti, le nostre dottrine, perché queste sono le possibilità che gli diamo di venire alla luce, l'unico mezzo che ha per esprimersi. Al tempo stesso, però, queste idee, emozioni, dottrine, ricevono proprio da lui tutta la loro autorità. Allora se lo accaparrano e se ne servono ai loro fini, succhiando dal suo elemento di pura verità le loro certezze indiscutibili, le loro profondità esclusive, le loro universalità a senso unico. è proprio la forza dell'elemento di verità a dare forza all'elemento di errore. Alla fine lo psichico si trova ad essere così totalmente sepolto e la confusione è talmente perfetta che non possiamo più rendercene conto. Non riusciamo più a estirpare la contraffazione senza distruggere contemporaneamente anche la verità. Così va il mondo, schiacciato da mezze verità che pesano più delle menzogne. La vera difficoltà, forse, non sta tanto nel liberarsi dal male. Il male è perfettamente riconoscibile, basta un po' di sincerità. Ma nello scollarci di dosso un bene che è solo il rovescio di questo male arriccato per sempre dentro un pezzettino di verità. Per avere esperienza diretta dello psichico nella sua fresca purezza cristallina, nel suo irresistibile esistere al di fuori delle tante trappole con cui tentiamo di catturarlo, al di fuori di tutto quello che ne pensiamo, che ne sentiamo, che ne diciamo, occorre prima arrivare a una trasparenza dentro di noi. Beethoven, il mare, la cappella sono semplicemente strumenti per raggiungere questa trasparenza. È sempre lo stesso. Basta essere limpidi e la verità, la visione, la gioia emergono in modo spontaneo. tutto emerge da solo, senza bisogno che noi facciamo niente, perché la verità è qualcosa di naturale, perché la verità è la cosa più naturale del mondo. È il resto a confondere tutto, è la mente e il vitale con le loro vibrazioni disordinate e le loro saccenti complicazioni. Tutta la tapassia e le discipline spirituali degna di questo nome, alla fin fine devono tendere esclusivamente verso questo punto assolutamente naturale, dove non c'è più bisogno di nessuno sforzo. Sforzarsi vuol dire ancora confusione, vuol dire ancora una copertura dell'essere. Il ricercatore perciò non tenterà di districarsi nel guazzabuglio della mente morale né di fare impossibili scelte fra bene e male nell'intento di liberare lo psichico, perché in realtà l'utilità sia del bene sia del male è strettamente connessa alla loro rispettiva nocività. E Sri Aurobindo ci dice il mio amante mi ha tolto la veste del peccato e io l'ho lasciata cadere con gioia. Poi ha afferrato la mia veste di virtù ma io ho provato vergogna e spavento e ho cercato di impedirglielo ma soltanto dopo che me l'ha strappata con la forza ho visto quanto mi fosse rimasta celata la mia anima. Il ricercatore lascerà semplicemente che tutto si decanti nel silenzio perché il silenzio è qualcosa di pulito di per sé è un'acqua lustrale. Non provate a lavare le macchie della veste una per una cambiatela completamente suggerisce un antichissimo detto caldeo è quello che Sri Aurobindo chiama cambiamento di coscienza. In effetti grazie a questa trasparenza le vecchie abitudini dell'essere si disferanno da sole e la nostra coscienza verrà a trovarsi in un'altra posizione non in una diversa posizione intellettuale si troverà a dipendere da un diverso centro di gravità all'altezza del cuore ma più in profondità del centro vitale del cuore che appunto ricopre lo psichico scimmiottandolo sentiremo una zona di concentrazione più intensa delle altre che è come il punto dove convergono tutte le altre il centro psichico dell'esercizio dell'esercizio di l'esercizio dell'esercizio dell'esercizio l'esercizio l'esercizio dell'esercizio